Selezione internazionale per il Museo archeologico di Reggio Calabria e per altri 19 fra gallerie e pinacoteche, siti che accolgono il patrimonio culturale più importante del nostro paese. Porte aperte quindi per direttori anche stranieri, purché dotati di titoli di studio idonei e sottolinea il ministro al ramo Dario Franceschini, comprovata qualificazione professionale. Il titolare del di Castero per i beni culturali che ha presentato il bando alla stampa si auspica che possono rientrare in Italia tanti nostri cervelli in fuga, ma gli attuali direttori si presentano più che battaglieri. Una volta insediati, i vincitori del concorso rimarranno in carica per 4 anni con stipendi che andranno dai 145.000 euro l'or di anno e ai 78.000 euro con l'aggiunta di una retribuzione, fanno sapere dal MIBACT, di risultato. Al Museo Reggino è stata riconosciuta l'autonomia speciale, per questo oltre al direttore si concretizzerà la nomina del Consiglio di Amministrazione e degli organi tecnici. Intanto a Palazzo Piacentini sono in corso gli ultimi ma lunghi lavori di allestimento e soprattutto l'ottimizzazione del percorso espositivo, i cui lavori per un contenzioso sono partiti solo ad ottobre 2014, ovvero con estremo ritardo. Si spera che il nuovo superdirettore riesca a rilanciare la struttura.